Mi trovo esattamente nel comune di Austis, in provincia di Nuoro, e in questo preciso momento sono sulla strada che mi porterà a Sant'Antonio, che è praticamente una chiesa, e vi farò vedere un attimo il paesaggio circostante, e dopo andremo in un altro luogo, segnato su questo cartello, che si chiama Sacra Barissa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Adesso ho parcheggiato la macchina e vi porterò alla scoperta di Sacra Barissa e poi approfitterò anche per fare qualche foto al paesaggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.